Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro tra Anna Maria De Rose, responsabile nazionale terzo settore e finanza agevolata di CICAS Italia e l'assessore alle attività produttive del comune capoluogo di Regione Catanzaro, Antonio Borrelli. La CICAS ha presentato un progetto pilota di grande coesione sociale, accolto favorevolmente dall'assessorato. Il progetto, già peraltro in frase avanzata, è quello di aprire un tavolo di confronto e creare una piattaforma tra attività economiche del territorio per far sì che domande o offerta di lavoro si incontrino su un terreno istituzionale che possa da un lato tentare di risolvergli il problema della manodopera e dall'altro dare la possibilità agli utenti del terzo settore di aprirsi al mondo del lavoro. Si pensi ad esempio a chi viene ospitato temporaneamente dai servizi socioassistenziali che ha necessità di lavorare per un percorso riabilitativo e al mondo delle disabilità che, seppure abile al lavoro, viene escluso dallo stesso per pregiudizi e mancanza di opportunità. Attraverso una piattaforma che verrà realizzata dal comune di Catanzaro, in collaborazione con CICAS, che collaborerà gratuitamente al progetto, il mondo produttivo e quello del terzo settore si incontreranno per far sì che tutti i soggetti interessati possono trovare soddisfazione. I vantaggi saranno molteplici poiché si creerà occupazione stabile sul territorio con lavoratori da formare e formati che possono entrare e restare nel mondo del lavoro a tempo indeterminato, che è il grande problema delle attività produttive in questo momento. Basti pensare all'agricoltura in primis e alla ristorazione, al commercio e a seguire. Il progetto prevede una serie di iniziative a partire dalla convocazione delle parti interessate per poi passare al coinvolgimento degli altri comuni della Calabria, anche attraverso l'istituto previsto dello Statuto della Regione Calabria. La Cicas Italia, attraverso il presidente Cicas Italia, dottor Giuseppe Mazzullo, e la responsabile nazionale terzo settore, Anna Maria De Rose, è impegnata a promuovere l'iniziativa in tutti i capoluoghi di Regione, proprio a partire da Catanzaro. Entrambi ringraziano l'assessore Antonio Borrelli per la sensibilità e lungimiranza mostrata e l'accoglimento del progetto pilota che in Calabria vedrà il comune capoluogo parte attiva. A tal proposito, l'assessore Borrelli ha dichiarato di voler aprire il tavolo di confronto a tutte le parti interessate nei primi giorni di settembre, coinvolgendo anche il dottor Venturino Lazzaro, che si è già detto pronto all'adesione al progetto pilota.